Oggi vi sarà il momento conclusivo del progetto Cittadinanza e Costituzione che ha visto protagonisti i ragazzi di questo istituto. I percorsi di Cittadinanza e Costituzione hanno coperto l'intero anno scolastico avendo coinvolto inizialmente le classi del triennio e a partire da febbraio fino ad aprile, fino ad oggi, le classi del biennio organizzate in diversi moduli laboratoriali. Diciamo che l'esperienza di Cittadinanza e Costituzione nel nostro istituto vede quest'anno il suo secondo anno di realizzazione perché è stata avviata già lo scorso anno, sempre attraverso una sperimentazione di tipo laboratoriale e quest'anno in particolare il progetto si è anche collegato in modo estremamente coerente anche con le indicazioni avute nel dare adesione al piano di sperimentazione regionale per la riforma degli istituti tecnici. Durante questa settimana molto impegnativa abbiamo svolto diverse attività di lavoro, abbiamo parlato dei primi tre articoli della Costituzione, abbiamo letto insieme a tutti i nostri compagni tali articoli, li abbiamo commentati e dopo nella seconda parte della mattinata abbiamo realizzato diversi cartelloni dove appunto abbiamo scritto tutte le nostre esperienze di questo progetto che dopo sabato faremo vedere alla Preside. Per noi lunedì la prima e seconda IG è stata, questo è il progetto di Cittadinanza e Costituzione, un'esperienza unica e molto formale. Abbiamo realizzato anche un prodotto multimediale che si è suddiviso in varie parti, cioè noi il cinema, la Costituzione, il diritto allo studio, il sé e gli altri e lo statuto degli studenti e delle studentesse.